ragazzi grazie grazie a puoletti miei c'è chi non ci credo grazie ragazzi sono troppo felice grazie a puoletti miei vi stimo un casino domani prima live in assoluto al mio canale durerà tantissimo sarà ragazzi grazie infatti adesso vi mostro una mano poi a 200 iscritti le mie due gambe aspettate vi mostro anche il mio altro braccio non credo voi siate interessati a vedere il mio braccio vi faccio vedere anche un po' di cameretta grazie ragazzi questo è solo per voi sono anteprime 200 iscritti farò vedere tutto il resto e alla fine ai 500 iscritti farò vedere la faccia questo è il piano ragazzi grazie 100 iscritti adesso ragazzi domani live vi adoro ragazzi vi lovo un casino quindi ragazzi partite con l'hashtag poletti hashtag noi siamo migliori di te perchè è vero hashtag migliori di yamcha grazie a poletti vi stavo un casino detto questo iscrivetevi al mio canale attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi ogni mio mitico video distruggete il testo di like e un saluto al vostro yamcha un nuovo preferito ciao grazie a te questo è un casino però